Musica Anche Civitavecchia nell'operazione antica morra della DDA di Salerno, incente quantitativo di droga sequestrato nel porto dalla squadra mobile. La Guardia di Finanza dichiara guerra alle discariche abusive, scoperto a Mianto su un terreno privato, denunciato il proprietario e sequestrate le aree. Calcio, il Civitavecchia non riesce a dare una svolta in casa del Sorava a K1-0 nell'undicesima giornata e rimane nei bassi fondi della Serie D. E ben trovati, buon inizio di settimana con l'informazione di Provincia TV. C'è anche Civitavecchia tra le città toccate dall'operazione antica morra condotta dalla squadra mobile di Salerno e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Franco Roberti. Un'attività durata sei mesi che nei giorni scorsi ha visto finire in carcere in base ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Salerno, nove persone tra cui una donna. Un provvedimento che risale al 27 maggio scorso dopo la cattura di altri personaggi coinvolti. Ispezioni, perquisizioni e sequestri di droga per un totale di 760 grammi, propria Civitavecchia ad Albenga e Liguria. Sequestrati nel corso dell'operazione anche 50 proiettili di pistola calibro 9. La droga per lo più ashish arrivava dalla Spagna e finiva sul mercato dello spaccio nell'area vesuviana. Importante è stato il contributo fornito dalla Polizia di Frontiera di Civitavecchia, determinante per il sequestro dello stupefacente all'interno dell'area portuale. E verifiche e controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Civitavecchia per contrastare l'inquinamento e gli illeciti ambientali sul territorio. I militari delle Fiamme Gialle, in trasferta a Tuscania e località Pagano, hanno scoperto una discarica abusiva di amianto e rifiuti pericolosi. Un terreno su cui, oltre ad una serie di materiali ritenuti pericolosi, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di amianto scaricato abusivamente al termine dei lavori di copertura del tetto di un capannone. Il sindaco di Tuscania, tra l'altro, aveva già emesso un'ordinanza per obbligare la società a bonificare l'area, ma i lavori non sono mai partiti. I finanzieri di Civitavecchia, insieme a quelli di Viterbo, hanno denunciato il rappresentante legale della società proprietaria del capannone, sequestrando anche il terreno. Prosegue l'attività degli uomini della Guardia di Finanza, volta a proseguire i reati di tipo ambientale. Durante il fine settimana, gli uomini del commissariato di Civitavecchia, diretto dal dottor Giovanni Lucchesi, sono stati impegnati in un controllo straordinario del territorio, soprattutto nei comuni di Ladispoli e Civitavecchia. Venerdì sera sono stati intensificati i controlli alla Dispoli con l'impiego di sei pattuglie che hanno identificato 150 persone, di cui 50 stranieri, 30 veicoli e 9 esercizi pubblici. Sono state rilevate quattro infrazioni al codice della strada, ritirata una patente e posti a fermo amministrativo due veicoli. Inoltre a Civitavecchia, tra sabato e domenica, gli uomini dell'ufficio volanti hanno proceduto all'identificazione di 80 persone, di cui 20 stranieri, tutti regolari, sul territorio nazionale. Controllato 40 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, ritirata una patente e infine elevate tre contravvenzioni. Ed ora cambiamo argomento sul piede di guerra. I residenti del ghetto a Civitavecchia, isole pedonali e ZTL non rispettate, problemi di viabilità per l'apertura dei nuovi locali. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Non si plagano le proteste dei residenti del centro storico e soprattutto di Piazza Fratti. Dopo la rissa scoppiata la scorsa settimana, i cittadini denunciano un'altra serata di ordinaria follia, dove la zona pedonale, nonostante il divieto di ZTL, di sera improvvisamente diventa palcoscenico di sosta selvaggia da parte dei non autorizzati. La musica dei locali, proseguono, si sente attraverso le finestre di noi poveri abitanti del ghetto. Noi residenti non ce la facciamo più. Possibile che il sindaco non dia una mano ai cittadini? L'amministrazione comunale è al corrente di tutto questo oppure chiude gli occhi pensando solo alle loro pance? Se questi sono i risultati di anni di amministrazione comunale, aggiungono i residenti, che hanno portato sulla menta le ricostruzioni parziali della marina e il portare a Civitavecchia una statua di un marinaio con un'infermiera, allora siamo veramente messi male. Se non verranno presi i provvedimenti, concludono, speriamo vivamente che venga cambiato il sindaco, auspicando che il suo successore faccia un lavoro migliore. Mi permetto di proporre a tutti i candidati sei piccole regole alle quali sarebbe bene che tutti si attenessero per correttezza nei confronti della città e delle famiglie. Lo ha dichiarato il consigliere del PD Mauro Guerrini. Tra i punti più salienti dell'elenco spicca la necessità di accompagnare le proposte avanzate con progetti e piani economici ben definiti che permettono al cittadino di essere sempre informato sullo stato di avanzamento dei programmi. Si presenti alla città il progetto Terme, ha concluso Guerrini, si parli dei finanziamenti e dei tempi di realizzazione e soprattutto dei posti di lavoro che verranno prodotti. Solo così si darà credito al progetto proposto alimentando la crescita economica della città. Si applichi questo processo ad ogni altra opera. Che utilità hanno le barriere utilizzate per impedire l'accesso dei camper alla frasca? Se lo chiedono alcuni cittadini in merito all'ultima installazione delle barriere che sembrerebbe non essere efficace. Ai lati delle strutture infatti la zona è completamente libera e aperta al passaggio. E si è svolta questa mattina alle 11 a Civitavecchia la cerimonia di consegna di due autovetture alla polizia e carabinieri da parte della provincia di Roma. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente Nicola Zingaretti, l'assessore provinciale Rita Stella e il questore di Roma Francesco Tagliente. Maggiori dettagli ve li daremo nella edizione serale. Si è svolta invece ieri a Tolfa la giornata di studi in onore di Basilio Pergi organizzata dal direttore del Museo Civico Fabrizio Vallelonga e dall'associazione Tolfarum con il patrocinio del comune. Il convegno è stato introdotto dal sindaco Luigi Landi e il tema della giornata era l'archeologia sui monti della Tolfa. I vari relatori che si sono alternati hanno offerto un quadro sintetico ma esaustivo della vita collinare nei vari periodi, dal preistorico al protostorico fino al periodo romano e medievale. Si è parlato anche della scoperta delle miniere dell'allume, la memoria di Basilio Pergi dalla sua passione per l'archeologia del territorio è stata ricordata dal dottor Carlo De Paolis, suo stimato amico, e mediante una mostra fotografica curata da Giovanni Padroni. Ed ora andiamo a Tarquini a bagarne l'ambito delle consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dei comuni nel CDA del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca. Il PDL parla di un grave insulto alla democrazia da parte del sindaco di Tarquini a Mauro Mazzola, denunciando quanto avvenuto durante la riunione di venerdì. I rappresentanti dei comuni della provincia di Viterbo, con diritto di voto al Consorzio, si sono riuniti presso i locali del comune per procedere a votazione. Il sindaco denuncia il popolo della libertà, ha reso si conto di non avere i numeri per fare leggere il candidato da lui designato, vale a dire il consigliere comunale Sara Torresi, esponente del partito repubblicano vicino al vice sindaco Giovanni Serafini e alla presidenza di Coldiretti, ha cominciato a tergiversare gli esponenti di centrosinistra, ritardavano il loro ingresso in aula, manifestando chiaramente la loro volontà di non andare a votazione. Il sindaco, sostenendo che alcuni comuni non avessero ricevuto la convocazione, allora ha proposto di rimandare l'elezione al prossimo venerdì. Dopo le resistenze degli esponenti di centrodestra, che contestando come la comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata non poteva non essere arrivata a tutti i destinatari e chiedendo quindi di mettere a votazione il rinvio, ha affermato che avrebbe in ogni caso rinviato la consultazione, assumendosi lui stesso la responsabilità della decisione. A stretto giro di posta la replica del centrosinistra, il PDL vuole lottizzare il consorzio di bonifica, dicono che la politica deve rimanere fuori dalla porta. Non era mai successo prima che le elezioni per rinnovare il CDA del consorzio si trasformassero in un'arena. E proseguono ad allumiere i lavori per la riqualificazione e restyling di molte parti del paese, compresi il centro storico e via della Grange, nonché località Casenove. Intanto cresce l'attesa per la commissione lavori pubblici ed assetto del territorio che si terrà martedì sera in aula consigliare, che porterà la sottoscrizione del progetto esecutivo relativo all'edizione del casale per la lavorazione della castagna. Poi, è spiegato il primo cittadino di allumiere, Augusto Battilocchio, indiremo la gara d'appalto per passare subito alla sua realizzazione. Katie Mariangeli è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Santa Marinella. Il sindaco Roberto Bacheca ha firmato il decreto che promuove l'ex vicecomandante nell'incarico superiore. Di conseguenza dirigerà il comando di via Barone-Marricola con il grado di capitano. La Marina Angeli conserverà l'incarico fino a quando non verranno terminate le procedure concorsuali per l'assunzione di un comandante del corpo di polizia locale. Resosi vacante nell'aprile 2010 dopo che l'ex responsabile del settore, Claudio Iacobazzi, era andato in pensione. Ed ora passiamo alla consueta pagina sportiva. Il Civitavecchia Calcio non riesce a sbloccarsi. Nell'undicesima giornata di Serie D si attendeva la riscossa e è arrivata invece un'altra sconfitta. La terza del campionato che lascia il Civitavecchia nelle parti basse della classifica. Sul campo del Sora decide l'incontro un gol siglato direttamente da calcio d'angolo al 22esimo del primo tempo. I Nerazzurri hanno una chance per passare in vantaggio in precedenza e per pareggiare dopo, ma gli attacchi non riescono ad incidere. La sterilità offensiva è proprio uno dei principali problemi per la squadra di Pirozzi, quest'ultimo incapace di trovare la rete con facilità. In classifica i Nerazzurri rimangono quartultimi, ora in solitaria, visto che Cinzi e Fidene hanno vinto. Fortuna che le compagini piazzate negli ultimi tre posti hanno perso. La stagione Nerazzurra sembra ormai proprio intrisa di sofferenze. E nella domenica di calcio locale in campo anche le formazioni di eccellenza e promozione nella prima sconfitta interna per la Dispoli, che ha perso per 2-0 contro il Pomezia. La squadra di Mister Galli paga le tantissime assenze per infortuni e squalifiche che ne stanno limitando le prestazioni dopo un periodo d'oro in cui riuscì a vincere ben cinque gare di fila. Pari interno invece per il Corneto, i ragazzi di Gufi impattano per 1-1 contro la capolista Ostia Mare, allenata dall'allenatore Civitavecchiese Caputo. In classifica quartultima la formazione del Corneto, che è quindi in zona play-out. In promozione invece turno sicuramente più positivo, il Santa Marinella ottiene la prima vittoria stagionale sconfiggendo in casa 3-1 l'ultima in classifica Canepina. Vittoria casalinga anche per il Tolfo, 1-0 contro il giovane Football Club. Non riesce invece a vincere il Cerveteri di Mister Piero Bon, che ha impattato per 2-2 sul terreno del Grifone Monteverde. Ed ora Rugby, doveva arrivare un'altra vittoria per la salvezza dopo quella di domenica scorsa contro Arezzo. È arrivata invece una sonora sconfitta. Non sorride il CRC, il sesto turno di Serie B di Rugby. Il Prato infatti si è imposto in casa sui Civitavecchiesi di coach Mazzarini con un netto 36-5. Ed ora Basket, gara sfortunatissima per la Stemar 90 nella C2 di Basket maschile. I Civitavecchiesi, allenati dal tecnico Mauro Tedeschi, hanno infatti perso lo scontro esterno contro il Fabiani Formia per 78-76. I Civitavecchiesi diverse volte sono stati in vantaggio in una gara in cui a farla da protagonista è stato soprattutto l'equilibrio in tutte le fasi di gioco. Praticamente le due squadre si sono equivalse e solamente la sfortuna e un mini-break ottenuto dai padroni di casa di inizio del quarto tempo sono stati fondamentali nel far prevalere i ragazzi del coach imparato. In bid eccellenza femminile, invece, quinta vittoria consecutiva della Valentino Auto Santa Marinella a farne le spese e la Sterla Azzurra a Roma. Netta vittoria per le ragazze di Precetti capaci di imporsi per ben 65-29. Ed ora pallavolo, una vittoria ed una sconfitta. Questo è il bilancio in Serie C maschile. La Sartorelli-Serramenti di coach Pignatelli, nonostante i tanti infortuni, è riuscita a battere 3-1 l'obiettivo pallavolo Belletri sul campo di Cori. Sconfitta, invece, per l'isotermica di Cesarini, che contro l'altra formazione di Belletri, capolista, ha perso in casa per 3-1 dopo aver conquistato il primo set. E infine, hockey inizia con il piede giusto all'avventura dei pirati Civitavecchia in Serie B di hockey in line. In Coppa di Lega e giallo-blu si sono infatti imposti nettamente in entrambi gli incontri giocati. 8-1 il punteggio contro Latina, 6-1 contro il Napoli. Il passaggio al turno successivo verrà deciso l'11 dicembre nel concentramento che si giocherà proprio a Civitavecchia. Questa era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo che la nuova edizione del telegiornale Alto Lazio verrà alle 19.45. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.